il convegno del cirigliano di Aversa si conclude con una prova per anziani di categoria G sono dodici i concorrenti agli ordini dello start prima fila a point lavec canfo top model par time chronos vento dell'est sector e valpicetto oggetto in seconda zero font utrillo spin zarina di roberto tiberix oxigen deni e via col vento torro problemi per il favorito vento dell'est che si elimina lotta per il comando poi emerge il numero due top model par che scavalca point lavec canfo primi duecento metri in quindici e uno è finito a tabellone vento dell'est e così a comandare le operazioni top model par nei confronti di point lavec terzo alla corda e utrillo spin a largos industria sector 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 raggiunge la leader dopo seicento metri in quarantaquattro e sette ritmo al di sotto dell'uno e quindici top model par e sector che lottano sector sembra poter passare sull'avversaria poi il numero uno point lavec canfo a largo valpicetto oggetto per il resto non cambia nulla giro in cinquantanove e nove sector completa il chilometro in un e quindici secchi resiste in seconda posizione top model par il leader sta sciorinando parziali notevoli uno dietro l'altro quattordici e mezzo di fronte uno ventinove e mezzo tre quarti di miglio sector per proprio conto deve solo far trascorrere i metri mentre c'è lotta per la seconda moneta lo scatto a centropista di Tiberix e mentre sector è isolato al comando Tiberix attacca top model par e la sopravanza per la seconda moneta ultimi metri in difficoltà per sector che completa il percorso in uno quattordici e tre a distanza Tiberix sopravanza top model par per le piazze rivediamo le battute conclusive con sector che raggiunge il traguardo più dietro dopo parecchio più tempo la media di sector è di uno quattordici e tre numero dieci di Tiberix precede top model par per il secondo posto è tutto dal cirigliano di Aversa rivederci alla prossima giornata di corse che si terrà sabato 30 maggio